Notata decisamente impegnativa per molti cittadini del nostro territorio, che si sono ritrovati con l'acqua alta in casa e nelle strade. Sono oltre 250 gli evacuati nel Ravennate per il maltempo, un centinaio nel territorio di Faenza, per l'esondazione dell'acqua a causa della confluenza del Marzeno con il Lamone. Nella notte si sono concluse le operazioni di evacuazione di altri 60 residenti a Conselice, dopo la rottura del Sillaro avvenuta nel pomeriggio di ieri. Sgomberate un centinaio di persone anche a Biancanigo di Castel Bolognese. La prefettura e i centri operativi comunali continuano a monitorare la situazione. Restano attivi i presidi formati da vigili del fuoco e volontari della protezione civile. In campo anche l'esercito. Le due situazioni più critiche sono quelle del fiume Lamone e del Montone. Scuole chiuse a Faenza, Castel Bolognese, Brisighella, Riolo Terme. Tante le strade chiuse interrotte le linee ferroviarie Bologna-Rimini e Faenza-Ravenna.